Tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro nominati recentemente dal Presidente della Repubblica c'è anche Giorgio Nicola Pino, 68 anni, residente a Caserta ma nativo di Limbadi. È nel piccolo paese del Vibonese che l'imprenditore vive i suoi primi anni di vita. Frequenta l'Istituto Tecnico Industriale di Vibo Valencia, terminati gli studi si trasferisce a Torino dove lavora per il gruppo Fiat, ma i panni dell'operaio gli stanno stretti e così, quando la società decide di creare una succursale a Caserta passa alla programmazione. L'anno della svolta è il 1980 quando costituisce la società STL con soli 5 dipendenti ed un capitale di 20 milioni di lire. Qualche tempo dopo fonda un'altra società, la Proma SPA a Caserta. Nel 2009 rileva la ex Tibermec di Umbertide, oggi è uno dei principali gruppi italiani della componentistica auto con 2.500 addetti e 20 stabilimenti produttivi, 13 in Italia e 7 all'estero in 10 paesi e 5 continenti e con un fatturato consolidato di più di 400 milioni di euro, con il fiore all'occhiello per l'innovazione con due centri ricerca e sviluppo, un esempio di tenace e orgoglio per i limbadesi che gli hanno conferito la cittadinanza onoraria ancora prima che il presidente Mattarella lo nominasse Cavaliere del Lavoro. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24.